Potente a pari ragazzi, con Axel, oggi sono da sole e sono qui a presentarvi sul mio primo canale Perché bene si ragazzi, questa è la prima volta che sul mio primo canale vi presento Ho fatto una alliterazione di P che è tattico Vi presento il mio primo episodio appunto di questo canale del pack of the day Che però se non mi sbaglio è il quattordicesimo sul secondo canale Perché dico ciò? Perché bene si ragazzi, oggi non ho, come praticamente gli ultimi tre giorni Non ho avuto tempo di fare dei video appunto, i miei soliti video del tipo Wager Match o Pink Pala Perché sto studiando, infatti sono contentissimo a Pala Perché ho sperato il mio record che era quello tipo 12 ore in tre giorni E ne ho fatte 15 ore di studio in tre giorni, quindi è una cosa un po' tattica Però tecnicamente parlando, domani questo periodaccio scolastico dovrebbe finire E rinizierò a far video appunto con più continuità Carico appunto questo video sul primo canale per due motivi Il primo perché non ci metto affatto tanto, ho anche delle cose abbastanza importanti da dirvi Secondo perché appunto volevo farvi sapere appunto per chi non lo sapesse Che sul secondo canale sto portando avanti questa serie Ormai da 14 giorni, da due settimane, questa è la seconda settimana di questo video Che praticamente io apro un pacchetto al giorno Una cosa abbastanza tattica perché non sono i soliti pack opening Che magari stufano un po' dopo un po', 15 minuti sono troppi Quasi sono proprio due minuti al giorno Quindi è una cosa veramente tattica Un'altra cosa che vi volevo dire ragazzi Che oggi, soprattutto oggi ma in questi giorni Mi stanno arrivando un macello di messaggi Che hanno appunto per l'oggetto In cui l'argomento principale è la vendita di crediti Perché bene sì, FIFA CoinTash, il sito che io consiglio Ha iniziato a vendere crediti di FIFA 14 Il suo prezzo è il migliore proprio sul mercato Ho visto anche altri siti di crediti E appunto il suo prezzo è il migliore Quindi mi raccomando andate a vedere E dato che io due mesi fa feci già un video, un tutorial Su come comprare appunto i crediti su questo sito Però questo tutorial l'ho misi come non elencato E dato che appunto mi stanno arrivando veramente troppi messaggi Su come comprare i crediti ho deciso di fare questa cosa Molto probabilmente domani farò un tutorial appunto Su come comprare e lo pubblicherò qua su YouTube Anche perché ho visto che anche altra gente ha iniziato a sponsorizzare video A sponsorizzare i siti di crediti Però appunto questo qua è il più economico diciamo E quindi boh fatemi sapere se volete un tutorial pubblico Oppure perché veramente ve ne sta arrivando un macello di messaggi Una cosa ambigua E quindi questo detto Poi boh basta Ah no un'altra news importante Intanto vado a cercare una coppia che mi ispira E che forse ragazzi prenderò FIFA 14 Lo venderò per Xbox e lo prenderò su Play Questo perché? Perché innanzitutto si blocca continuamente Ho capito che facceranno sta cosa Ma a me veramente fa salire il crimine Questo continuo problema dell'EA Di FIFA in generale E secondariamente perché Non c'è così tanta gente che partecipa ai Pink Pala Come anche lì Wager Match Quindi se riesco a trovare qualcuno a cui venderlo Tornerò presto su Play E spero che questa notizia vi faccia sapersi Vi faccia piacere Allora Ho già parlato troppo Perché appunto i video di solito durano stra poco Questi pack of the day Quindi andiamo per il primo pacchetto Il primo e unico pacchetto di oggi Vai Alaba Forza Alaba Gira la pala durata Vediamo Dai Ma che schifo Non ci posso credere Allora Dato che questo qua è il mio primo episodio Credo anche l'ultimo perché Appunto questi video sul primo canale Caricherò quando non avrò tempo di fare altri video Eeeh Ne aprirò due pacchetti Adesso forse Sto sbagliando delle cose tattiche però Allora ragazzi Stavo sdrocheggiando Iniziamo a non capire più niente Quindi Eccoci qua Perché dovete sapere Che la serie si chiama pack of the day Ma a volte io al giorno Apro anche più di un pacchetto Come in questo In questo giorno È proprio un episodio speciale Che caricherò su questo mio primo canale Eeeh Quindi andiamo Con il secondo pacchetto Secondo e ultimo ovviamente Dai Alaba Arturo Quando gioco si fa duro Entra i barbo Vai Alaba Dai Carichi La palla durata gira Dai Kolarov Ma che schifo Ruben Castro Vabbè Not bad Allora ragazzi Questo video è terminato Spero che innanzitutto Vi sia piaciuto Era più un video d'aggiornamento Con appunto L'apertura di un pacchetto Di due pacchetti in sottofondo Questo Ripeto Era Per farvi sapere Che sul mio secondo canale Sto facendo questa serie Il link l'ho trovato in alto a destra Del mio secondo canale E anche in descrizione Vi volevo dire Un'altra cosa che Vi ho Appunto Ho sfruttato l'occasione Per dirvela È che FIFA con il stascio aperto Fa degli ottimi prezzi Vi volevo anche chiedere Queste due cose La prima Se volevo sapere la vostra opinione Sul fatto che Appunto Che io magari in un futuro Prenderò Fafa 14 Per la play 3 E invece La seconda è appunto Se volete Che io metta un video Pubblico Che appunto Possono vedere tutti Senza che mi chiedano il link Su appunto Come acquistare i creiti E quindi ragazzi Detto questo Il video è terminato Io vi dico potente A pala e senta Io vi saluto E vi dico potente A pala e senta Il prossimo video Bolla